Ciao a tutti amici, qui è Benny Companion, oggi siamo nuovamente su Ina Galaxy Far Far, questa volta per parlare di Star Wars The Clone Wars, la serie animata che oramai costituisce un pilastro per i very fan della saga. In questo episodio andiamo a trattare di 10 puntate specifiche di The Clone Wars che almeno dal mio punto di vista sono fra le più belle appunto le mie 10 preferite, quindi è una classifica molto soggettiva, vi sono anche delle scelte impopolari che ho inserito in questo video per cui non prendetevela nel caso non foste d'accordo. Tra l'altro in questo video quando parlo nello specifico di un episodio potrei anche riferirmi all'intero arco narrativo a questo fa parte che di solito dura 3-4 episodi perché sappiamo comunque che molte stagioni di Clone Wars hanno trame che si sviluppano nell'arco di 3-4 episodi per cui prendo l'episodio di riferimento più emblematico. Detto questo, ecco a voi la mia top 10. Sarebbe stato fuori luogo non partire da uno di quegli episodi che più di tutti definisce cosa significa essere un clone da combattimento durante l'omonima guerra. Nella puntata viene mostrata tutta quella fratellanza e fiducia collettiva che unisce questi esseri biologicamente uguali ma empaticamente e tecnicamente così diversi fra loro in una miscela di personalità che ha contribuito a rendere la serie animata loro dedicata uno dei prodotti targati Star Wars più emblematici del periodo post trilogia prequel. Le vicende hanno luogo in un avamposto lunare nei pressi di Camino, il pianeta di origine dei cluni, che viene attaccato dai droidi di Grievous i quali tramite vari sotterfuggi e manovre di attacco esercitati di soppiatto riescono ad appropriarsi dell'importante base della Repubblica. Subito dopo l'attacco l'ha messa in scena e ha messo in atto dai droidi per far credere alla Repubblica di essere ancora al controllo della base, vediamo entrare in scena i cari vecchi cluni Rex e Cody, decisamente più noti al pubblico, che in questi episodi di esordio si distinguono da subito per la loro immensa qualità tattica ed esecutiva applicata al loro mestiere bellico, nonché per la loro personalità che li rendono da subito riconoscibili agli spettatori, nonostante l'aspetto identico, e grazie al loro intuito e al cameratismo che li lega infatti che riescono a superare in astuzia dei droidi, fingendo una loro dipartita e contraattaccare subito dopo, insieme ai superstiti della base, per riconquistare la postazione. E' da questa puntata inoltre che inizia la vera avventura della legione 501, capitanata da Rex, che includerà non solo Cody, ma anche Ico e Fives. La quinta puntata della prima stagione è senza dubbio l'inizio spirituale della serie della guerra dei cloni. Al nuovo posto troviamo l'episodio 12 della quinta stagione, dispersi in azione. Avevo detto che in questa lista vi sarebbe stata una mia preferenza alquanto impopolare. E' bene inserito quello che credo sia uno degli archi narrativi più sottovalutati dell'intera serie di The Clone Wars, presente nella quinta stagione, in cui viene messa in risalto l'importanza di quei personaggi che sono una delle principali forze trainanti non solo della serie, ma dell'intera saga di Star Wars, i droidi. Nonostante non siano in carne ed ossa come i loro padroni, e spesso non siano in grado di esprimersi se non con una serie di sogni abbastanza criptici e difficili da interpretare, la caratterizzazione di alcuni di esseri e due in primis non ha nulla da invidare rispetto a quella di altri personaggi più organici. Riferendoci però in particolar modo a questo episodio, per onor di cronaca, sarebbe ingiusto non citare la presenza di due personaggi viventi che insieme ai droidi tengono le redini dell'azione. Il primo è Mebur Gaskon, colonnello della Repubblica scelto in una missione di recupero a dati complicata, ma facilitata dalla sua piccola statura, principale motivo per cui egli viene scelto per l'incarico, durante il quale abbiamo la possibilità di assistere a gag simpatiche, sorte fra lui e i suoi insolenti compagni di viaggio. Il secondo è il clone Gregor, che, vittima di amnesia, non ricorda nel suo passato né la sua appartenenza all'esercito dei cloni. Sarà proprio lui, alla fine dell'episodio, il protagonista di una scena in cui assistiamo a tutto il coraggio di cui si avvalgono i cloni durante le loro battaglie. Gregor, infatti, metterà a ripentare la sua stessa vita per la portata a termine della missione dei droidi di Gaskon, in una scena che culmina con una drammatica esplosione che metterà un punto interrogativo sul suo fatto, che però verrà rivelato in Star Wars Rebels. All'ottavo posto, l'Unione fa la forza. Stagione 3, episodio 1 Cloni non si nasce, lo si diventa. Lo testimonia il pilota della terza stagione, dove una piccola unità di cadetti, la squadra domino, è alle prese con la prova finale del proprio addestramento. Un'esercitazione che metterà a dura prova soprattutto la loro capacità di fare gruppo, perché in guerra chi combatte solo per sé è un uomo morto. Questa lezione e altre sulle qualità di un vero soldato vengono insegnate paradossalmente da 99, un clone difettoso ravanziano che, nonostante non abbia mai solcato un campo da battaglia, dimostra di essere fra i cloni più meritevoli di onore e rispetto fra i suoi fratelli, capaci di infondere spirito di coesione e coraggio ai suoi compagni più giovani, che grazie ai suoi consigli alla fine porteranno a termine l'addestramento nonostante le difficoltà iniziali. Quello di 99 è uno degli archi più tristi di The Clone Wars, soprattutto per via della triste fine, che lo attendrà successivamente nella serie, dove rimarrà ucciso durante l'inversione dei droidi sul camino. Al settimo posto, l'episodio 21 della quarta stagione. Forse è l'episodio più atteso dai fan ai tempi della prima messa in onda di The Clone Wars. Era già stato annunciato in precedenza, nella stessa serie, che Darth Maul fosse sopravvissuto agli eventi della minaccia fantasma e che sarebbe tornato ancora una volta per mettere a repentaglio le vite dei Jedi. Quello che nessuno si aspettava, però, era che la serie potesse dare al personaggio una caratterizzazione, una personalità che nel film non gli era mai stata conferita, passando più risalto per il sospetto e la doppia lama della sua spada laser che peraltro. Da questi episodi, invece, parte una grande introspezione di questo personaggio, che fa leva soprattutto su sua rancore nei confronti di Kenobi e la galassia tutta, in cerca di vendetta ma anche di potere, che inizialmente ciccherà con suo fratello Savage Opress, che ha il merito di averlo trovato sul desolato pianeta di Lotho Minor. Sendo subito l'episodio si distingue per i suoi tuoi inquietanti oscuri, che culminano con la scena del ritorno di Maul, in preda alla pazzia. Se qualcuno vi dice che Clone Wars è una serie per bambini, fateli vedere questa puntata. Al sesto posto, il Senza Legge, sedicesimo episodio della quinta stagione. Prima di The Mandalorian, The Clone Wars è il grande compito di approfondire nel canon nella storia del grande pianeta guerrero di Mandalore, governato però durante il periodo dei prequel dalla duchessa Satin, famosa per la sua politica pacifista. Questo arco narrativo rappresenta uno dei periodi più bui però del suo governo, in quanto viene spodestata nel corso dell'episodio da Darth Maul e i suoi alleati, il primo autore di questo attacco al trono mandaloriano, avendo il fine di attirare l'attenzione del suo arci nemico Kenobi, che ha una speciale connessione con la duchessa, che alla fine muore per mano del Sith, in una delle scene più tristi e inaspettate della serie. Questa scena però dimostra anche che Obi-Wan ha un cuore. L'intero arco narrativo dell'occupazione di Mandalore è il grande merito di aver continuato a fornire grande spessore al personaggio di Maul, approfondendo la sua concezione del lato scuro e il suo rapporto con il fratello Savage, il suo vecchio maestro Palpatine, con cui sarà protagonista alla fine di uno dei combattimenti con le spade laser più belli non solo della serie, ma dell'intera saga di Star Wars. Al quinto posto troviamo l'episodio quattro della sesta stagione, Orders. La sesta stagione è personalmente la mia preferita dell'intera serie, in quanto cominciano a venire fuori ancora più nettamente gli eventi che riguarderanno la storia della vendetta dei Sith, ma non solo. Nell'arco narrativo di Fives e in quello di Yoda verso la fine della stagione è come se episodio dopo episodio si avvertisse sempre di più un'atmosfera inquietante di mistero, come se fosse possibile percepire un imminente cambiamento, qualcosa di diverso da quanto visto nelle stagioni precedenti, dovevamo concentrati sugli scontri diretti fra cloni e separatisti, fra le igie di da una parte e il conte Duco e il generale Grievous dall'altra. Questi due stranamente cominciano ad apparire sempre di meno nel corso della storia, per essere assenti definitivamente nella settima stagione, dove invece si avverte la presenza languida di un solo e unico villain, il cancelliere Palpatine, che ben presto diverrà imperatore. Tornando però in modo specifico all'episodio, esso fin da subito catturò la mia attenzione in quanto si propose di spiegare le modalità del piano finale di Palpatine per i Jedi, che userà nell'ordine 66 proprio i cloni per impartire loro l'ordine di ucciderli tutti. Dopo aver visto la serie, legami affettivi stabiliti si fra i cloni e i loro compagni Jedi in battaglia, vedi sia Sokka e Rex o Kenobi e Cody, pare strano assistere in Piusoio 3 alla facilità e alla freddezza con cui l'esercito repubblicano stermine i suoi generali più valenti. Nel film i cloni infatti si comportano come degli automi che non possono assolutamente sfuggire all'incontestabilità dell'ordine. Nel cartone ci viene spiegato che c'era dovuto un chip organico installato fin dai primordini elementi dei soldati cloni, ai cui ordini essi non ne sarebbero potuti sfuggire, neanche con la loro piena forza di volontà. Il primo a scoprire questo complotto è il clone Fives, che sul cammino si accorge del misfatto attuato anche con la cooperazione dei camminuani, da sempre in combutta con Sidious. Fives in seguito avrà ricercato addirittura nell'episodio finale del ciclo lui dedicato, avrà anche un confronto faccia a faccia con Palpatine, anche lui stupito di come un semplice clone abbia potuto scoprire il suo diabolico piano. La cosa che fa più rabbia è che sarebbe bastato un po' di più di fiducia da parte dei suoi comunitoni, e soprattutto da parte del consiglio Jedi, affinché il piano di Palpatine venisse alla luce. Invece, con il suo atto di coraggio, esso fu vittima di una misunderstanding, infatti il suo atto fu interpretato come un malfunzionamento, il fattaccio non fu più preso in considerazione, a testimonianza della cicità di un ordine Jedi in crisi, che non si accorge fin dal primo minuto di avere il nemico in casa. Surgente la scena finale, in cui Fives muore fra le braccia di Rex, che comunque farà tesoro di questa informazione alla fine della serie, durante l'Ordine 66, forse troppo tardi per salvare anche altri al di fuori di esso. Quarto posto per l'episodio 20 della quinta stagione, il Jedi sbagliato. Questo episodio mi ha fatto innervosire come pochi. Ancora prima delle mancate attenzioni nei riguardi del fattaccio di Fives, il consiglio Jedi esce ancora una volta sconfitto moralmente da un evento spiacevole che riguarderà in prima persona la padona Soka, accusata di un attentato al tempio Jedi, ed è anche dell'omicidio di una terrorista che ha eseguito direttamente i suoi presunti ordini. Ovviamente Soka è innocente, e la vera colpevole è l'amica Suoketana Barris, la mente dietro l'attentato, avendo il fine di scoraggiare gli Jedi nel proseguimento della guerra. Ma è come in questo momento lo spettatore potrà uscirsene così deluso dal comportamento del consiglio Jedi, e in particolar modo da quello dei messeri Yoda e Meswindu, che per poco, per evitare la loro incapacità di gestire questa situazione critica e non avvertire il lato oscuro nei veri colpevoli, rischiavano di rovinare la vita a una loro innocente apprendista. Forse Palpatine in parte aveva ragione a dire in episodio 3 che rasta proprio l'arroganza e la debolezza dei Jedi a condurli in un declino inesorabile, che nel preordine 66 trova appunto il suo momento clou in questo evento, di fronte al quale anche a Soka al termine della vicenda si renderà conto che l'ordine dei Jedi è entrato in contraddizione oramai con se stesso, provocando addirittura danni al suo interno. La scena finale di Soka, che lascia il palazzo, è la più emblematica dell'intero cartone, e anche questo è un evento che contribuirà al passaggio oscuro di Anakin, che si vedrà costretto anche a rinunciare a uno dei suoi più fidati aliati, per via dell'ennesima inadempienza di un consiglio dei Jedi destinato a crollare su se stesso. Al gradino più basso del podio troviamo il tredicesimo episodio della sesta stagione, Sacrifice. Yoda arriva al termine del sfeaggio spirituale cominciato all'inizio di questo ciclo narrativo grazie alla guida del suo defunto amico Qui-Gon, che lo condurrà dapprima su un mondo antico gestito dalle cosiddette sacerdotesse Midi-Clorian, che lo obbligheranno ad affrontare difficili prove riguardanti il suo uso della forza e la sua resistenza a lato scuro, e poi verso Moraband, antico pianeta casa dei Sith. Qua incontra la figura di Darth Bane, in originale addirittura doppiato da Mark Hamill, che è un ottimo richiamo a Legends, utile anche per rendere il personaggio canonico nella nuova timeline, avendoli introdotto anche la famosa regola dei due, alla base dell'organizzazione gerarchica dei Sith. Yoda riesce anche a sconfiggere la minaccia della sua figura, ma all'attendolo ci saranno Palpatine e il Conte Dooku, che a sverati anni riusciti di distanza su Colossan si connettono a lui tramite la forza, ingaggiando uno scontro che vede coinvolto, anche se solo come figurante, Anakin Skywalker, che ucciderà Dooku o la stregua di come farà nei più stai 3, lasciando però la scena a Yoda e il suo futuro maestro Sith. I due si affronteranno faccia a faccia per la prima volta. Yoda riesce a superare anche questa prova, non facendosi succassare da Palpatine, che si venirà dopo essere precipitato nel vuoto. Quella a cui esisterà Yoda sarà una parziale premonizione, in un episodio dai tratti molto inquietanti ma altrettanto interessanti, in cui emergono temi su cui si baseranno i successivi film, l'ascesa di Palpatine al potere, la debolezza di Anakin a cedere così facilmente al lato scuro, e l'eterno conflitto che esiste in tutti i Jedi, fra lato chiaro e lato scuro, che persiste anche nei più vecchi e convinti maestri, anch'essi non esenti completamente dalla tentazione del seducente Darkseid. Medaglia d'argento per i diciassettesimi episodi della terza stagione, Lo specchio del futuro. Forse l'arco più enigmatico e mistico dell'intera serie. Su un pianeta ignoto, Anakin, Obi-Wan e Asoka, vengono trattenuti da tre entità legate intensamente alla forza, dai nomi di padre, figlia e figlio. La figlia è legata al lato chiaro, il figlio al lato scuro, e il padre fa l'arbitro alla loro contraddizione. Dopo aver dimostrato al loro primo incontro agli abitanti di questo pianeta che Anakin è il prescelto della forza, i Jedi si ritroveranno costretti ad affrontare il figlio, desideroso di lasciare il pianeta e conquistare la galassia. Nel farlo però rompe l'equilibrio nella forza, uccidendo erroneamente la sorella nel tentativo di sconfiggere il padre. Il figlio e Anakin si incontrano, il primo fa vedere al Jedi attraverso una visione il suo futuro prossimo, la caduta dei Jedi e l'ascesa dei Sith, con la sua trasformazione in Darth Vader. È la prima volta dunque nel canon che assistiamo ad Anakin convertirsi completamente al lato scuro, dimostrando come questa sia stata sempre una tendenza nell'animo del Jedi, vittima della paura del futuro disastroso che lo attende, che lo conduce inevitabilmente all'ira. Il padre però successivamente cancella la memoria di Anakin e si riorganizza con i Jedi per la caduta finale del figlio, dopo un sacrificio disperato attuato appunto dal suo vecchio per indebolirlo. Questo episodio è stata una vera manna dal cielo per i fan, come un anticipo dell'impero nel bel mezzo della guerra dei cloni, a dimostrazione del fatto che in Star Wars tutto è connesso, tutti gli eventi rimano fra di loro, come direbbe George Lucas. L'eterno conflitto fra lato chiaro e lato scuro si concretizza nelle figure di questi nuovi personaggi, che rappresentano la reincarenazione della filosofia delle loro rispettive ideologie. Ci sarebbe da chiedersi inoltre cosa sarebbe successo se l'alleanza temporanea fra il figlio e Anakin avesse avuto successo e cosa sarebbe avvenuto in tal caso. Una cosa è certa, ascoltare in The Clone Wars per la prima volta il tema di Darth Vader durante la visione di Anakin non apprezzo. Al primo posto il dodicesimo episodio della settima stagione, Vittoria e Morte. Dopo una settima stagione partita in sordina, il ritorno di The Clone Wars comincia a farsi sentire con la parte finale dell'intera serie, con la conclusione della sottotrama riguardante il conflitto di Mandalore già approfondito appieno nella stagione precedente, e con l'ordine 66 finalmente portato in scena anche in questo prodotto targato Star Wars. Dopo aver spodestato Darth Maul dal trono di Mandalore, Ahsoka è entrata come aiutante dei cloni dopo un periodo di lunga assenza dal suo abbandono dell'ordine, è costretta ad affrontare l'imprevedibile. Il cancelliere, rivelatosi come il Signore Supremo dei Sith, Darth Sidious, emana l'ordine 66, tramite il quale tutti i cloni hanno l'obbligo di uccidere i loro compagni Jedi, al quale obbediranno senza esitazioni, prevede un chip organico installato nelle loro venti. Rivedere questa scena sotto una diversa prospettiva dopo averla assistita in pieno in seguito all'episodio 3 fa ancora più male, e soprattutto si riguarda Soka, che vanno imparato ad apprezzare nel corso di 7 lunghe stagioni. Ciò che mi ha fatto più impressione di questo episodio, però, è il graduale cambiamento dell'atmosfera e dei toni nel corso dell'episodio. Momento dopo momento, la situazione si fa sempre più cupa. È come se, mentre stessimo guardando The Clone Wars, fossero proiettate nelle nostre menti gli eventi clou del terzo film, che hanno un luogo esattamente negli stessi istanti. Nella galassia, infatti, sta succedendo qualcosa che fa venire la pelle d'oca persino uno dei signori oscuri più temibili che siano mai esistiti, Darth Maul, che aveva in precedenza inscenato tutto il conflitto di Mandalore solo per attirare Anakin ed evitargli il destino che Palpatine aveva previsto per lui. È terribile, inoltre, vedere i cloni con i caschi dipinti a modo la faccia di Ahsoka attaccare la loro stessa amica, non coscienti di ciò che sta avvenendo, l'unico che almeno inizialmente desiste dall'ordine Rex, che avverte in tempo Ahsoka di ciò che sta succedendo. Dopo aver rimosso il chip a Rex, Ahsoka e il soffidato compagno di guerra riescono a scappare dalla nave, macro prezzo, consciura di vivere in una galassia del tutto differente da quel che conoscevano. Alla fine di The Clone Wars non poteva non comparire lui, Darth Vader, una presenza non del tutto scontata, che recupera la spadalase di Ahsoka sul luogo di atterraggio della nave, dove sarà sfuggita. Il clima glaciale del pianeta all'arrivo di Vader non è altro che lo specchio della sua anima, che neanche i ricordi possono salvare. Bene ragazzi, questa era la top ten degli episodi di Star Wars The Clone Wars. Scrivetemi nei commenti qual è invece la vostra lista delle puntate preferite della serie animata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!